E' facile da scegliere! Rischio zero! Attiva la tua efficienza! Pronto? Vendi! Vendi! Ma 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 non posso adesso! Tempi dimezzati! Comunicazione immediata! Completamente affidabile! Cos'è? Non! Eeeh! Eeeh! Semplice e intelligente! Perché tu mi capisci, vero Wilson? Continuità di servizio! Collegamenti sicuri! Eeeh! Come numero 9! Aburre Chaga de 8 y a Valdano de 7! La pelota va para Maradona! Maradona puede tocar para Enrique! Siempre Maradona es un drible! Se va entre 3! Siempre Diego! Genial! 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 Tocó para Valdano! Entra Maradona! Falta en 3! 5! 5! Vamos! Goal! 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 Grazie.